Apprezzamento per questo importante vertice a Palermo, chiamo alla Ministra Lamorgese a proseguire le nazioni di attenzione per criticità gestionale e finanziaria dei comuni ciliani con l'apposito tavolo già convocato che verrà ultimamente convocato, dovrà registrare l'impegno del Governo nazionale e del Governo regionale a sostegno dei comuni con relativo rinvio del termine di approvazione dei bilanci. Attenzione molto forte al tema degli incendi, come faccio il regionale della Sicilia, della Calabria e della Sardegna, abbiamo chiesto che ci sia un tavolo tecnico-politico di prevenzione degli incendi se vogliamo evitare la vera e propria industria del fuoco, dove ragioni diverse speculative piuttosto che di vendetta o piuttosto che di estruzione finiscono con il distruggere l'ambiente. In qualche modo rendere l'agricoltore interessato a avere pure terreni non coltivati, attraverso un sistema di incentivi che può essere opportunamente introdotto e previsto nel rispetto di alcune canone e caratteristiche. Per quanto riguarda i migranti, è spesso apprezzamento dal prefetto di Bari, per il modo in cui si cerca di non essere travolti da logiche di emergenza e di invasione, ma al tempo stesso si affronti una situazione che è certamente una situazione di grande rilievo, dove le uniche cose veramente gravi sono le sofferenze dei migranti e le morti del Mediterraneo. Occorre che il Presidente Draghi faccia sentire la propria voce a livello europeo per ottenere dall'Europa una risposta così come l'ha ottenuta per il PNRR, questa volta non per avere miliardi, ma per avere rispetto dei diritti umani, di esseri umani che muorono nel Mediterraneo in un vero e proprio genocidio per cui noi non possiamo dire non essere a conoscenza.